Ci sta giusto giusto la teglia per la ricetta che voglio fare perfetta per i bambini perché è colorata, sana e nutriente venite con me in cucina Facciamo rosolare le fave in un soffritto di scalogno con acqua e sale lasciamo cuocere e poi frulliamole per l'impasto mescoliamo farina, zucchero, sale, cua tiepida e lievito sbriciolato e continuiamo a impastare uniamo anche la crema di fave e lavoriamo per 10 minuti appoggiamo l'impasto su una teglia unta e lasciamolo lievitare per circa un'ora emulsioniamo olio, acqua e sale e versiamo la salamoia ottenuta sulla focaccia lievitata e stesa cuociamo in forno a 230 gradi per circa 20 minuti e voilà la focaccia con le fave è pronta come la lavo una teglia unta così? vi dimenticate della doppia azione di Pril Gold Duo Gel che combatte lo sporco più ostinato anche nei cicli brevi adesso posso portare la mia focaccia a Diego perché ai piatti ti penso aprile